Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Nel 2022 vita sociale è tranquillamente non per forza con davanti a un'altra persona. Cioè parli con persone, scambi idee, condividi opinioni, quello è socializzare. Nel senso, mi sembra un ragionamento da medioevo pensare che la vita sociale si debba limitare per forza ad essere fisicamente presente con un'altra persona. Non avere vita sociale vuol dire essere da soli e non voler parlare con nessuno. 22, 33, 33 watt, 8, 8, 9. La grande pignottona che si infilava sempre nel culo, la paghettona. Ma perché sta prendendo così tanti punti impedimentici? E usciamo pieni da qua. Ciao Pro Frescino! Venuto con Prime, ciao bello! Grazie! Yaya! Gobri sottolineatura, 12 mesi. Salve Gobri! Ma come scrivere il momento? Un anno insieme, come è possibile? Porca caccia, porca caccia Un anno insieme, lol Porca, porca, troia Livello 632 Grazie, Gobri Merda Aiuto Cazzo Ciao Fuora via Cazzo, passano 5 secondi Wonder Woman alza gli occhiali da sole e fa Ma che cazzo è successo? E in quella si alza l'uomo invisibile che fa Non lo so, ma io ho il culo in fiamme Nooo L'uomo invisibile no E' così, è così Quindi in poche parole l'ha buttato all'uomo invisibile per il bagno L'uomo invisibile che stava già facendo cose con Wonder Woman Ed è così E l'ha preso senza volerlo L'uomo invisibile aveva il culo in fiamme Merda Eh sì, eh sì Ma che cos'è che ho sbagliato? Porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo il ca Porco cazzo, porco cazzo, porco cazzo il cazzo il FLY Che cazzo fa? E per lo pazzo, per lo pazzo, per lo pazzo Cosa cazzo fa? Pa, 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 pa E per lo pazzo, per lo pazzo, per lo pazzo È arrivato proprio qua, 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 qua E per lo pazzo, per lo pazzo, per lo pazzo Cosa cazzo? Pa, 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 pa E per lo pazzo, per lo pazzo, per lo pazzo È arrivato proprio qua, 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 qua FLY Ma cosa fa? Io la ringrazio lo stesso Grazie di cuoro 900 patatine che vanno Sulla barra La barra si sta alzando No, cuno Finito 30 Siamo su Sì, ma Un altro ancora, un altro qua, un altro qua Non è possibile, è sempre 2v1 No, no, si mi ha fatto cadere Sì, hai ragione E lui si è salvato Dio bellissimo del cielo Scusami, Punisher Eh, l'ho fatto cadere, l'ho fatto cadere Spider-Man Guys No, eh, non si può non averlo Non si può non averlo No, io non avevo la R adesso, ho vinto senza R Hai vinto un altro game? E questo qua con 8 kg vinto da Merzia Ciao Octopus, benvenuto Ciao bello Loro, loro, loro Lolo, lolo, lolo Octopus sottolineatura S sottolineatura è dei nostri Ciao bello Ok 41 Bellissimo Love Ranger veramente god Porco, porco, il cazzo Fly ha fatto il pazzo Ma che cazzo fa? Che cosa, cosa cazzo fa? Oh Fly pazerello Allo chiuderello Si è abbonato qua Che cazzo fa? Fly 0-0 Fly 2 mesi Non faccia Cosa fa? Non faccia Buongiorno Tancre Yo yo Sono molto sudati Molto sudati Oddio Xiu Spero di non Forse muore Forse muore Ma Vedevo casa mia da lì Che cosa è successo? Non lo so Io l'ho presa quel caldo Ma non pensavo così alto Doveva per forza venirmi addosso ovviamente Ci mancherebbe Non avevo le armi buone Non avevo le armi buone Ok? Non le avevo Vediamo Magari ogni volta Ogni scena dice 991 935 E' carino Capito come Ho capito Shudermen Shudermen Le cappelle Le ci fa I suoi box 2000 maz Non le bastano otto lam Perché Le Shudermen Non commento neanche tanto Il nuovo intro per i video Le p Non le bastano otto lam Non è male E vabbè Andiamo Andiamo Quanto guadagno io da Twitch Circa 1500 euro al mese Andiamo 1600 quando mi va bene Vamos E Fanti non rida Fanti Buongiorno Cotto Buongiorno Cotto Oh my god Oh mio dio 100.000 patatine Oh shit Il livello 5 al 1660% Signori Da notare Vai Cazza E No 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 No, no, no.